Sindaco, si parla di licenziamenti all'interno della Team e il Partito Democratico, anche su questo è intervenuto. Qual è la verità? Anche qui Manola Di Pasquale fa finta di non conoscere le leggi oppure le ignora proprio. Il fatto che alcuni servizi non potranno essere più svolti dalla Team è un fatto recente relativi ad alcune attività che il suo governo ha messo in atto, il governo di Matteo Renzi. Le pulizie immobili e i servizi museali non potranno essere più gestiti dalla Team Ambiente. Questo non vuol dire che manderemo a casa queste persone. Stiamo lavorando insieme alla Team Ambiente per vedere di mettere in atto tutta una serie di attività per garantire il posto di lavoro a queste persone. È chiaro che però a questi servizi non potranno essere più svolti dalla Team e non per una scelta del Sindaco Brucchi. Sarebbe carino, e lo sto facendo, verificare in quali anni la Team ha fatto maggiori assunzioni dal momento in cui è nata fino ad oggi. Probabilmente avremo delle sorprese. La Team Ambiente ha fatto le assunzioni previste, secondo quelle che erano le varie commesse che portava avanti. Le assunzioni sul porta a porta erano relative alla nuova gestione dei rifiuti, per cui davvero, insomma, come al solito, strumentalizzazioni. Invece io voglio fare, diciamo, dobbiamo parlare di fatti concreti. Ho detto al CDA di lavorare sul numero di persone che possono essere assorbite nelle altre commesse dalla parte della Team Ambiente. Vedremo chi potrà, diciamo, aderire al nuovo decreto Renzi sullo scivolamento, per quindi anticipare l'età pensionabile, e poi vedremo quello che resta. Così come ho fatto per gli operatori del trasporto pulmini, che sono stati tutti riassobiti grazie al sottoscritto. Così come ho fatto per il Ruzzo, che mi sembra è stato amministrato per oltre 20 anni, forse di più dal centro-sinistra, che ha davvero problemi di personale. Ma di questo Manoli Pasquale non parla mai, perché oggi nell'occhio del ciclone è stata messa la Team e si pone sempre l'attenzione sulla Team, però Del Ruzzo, Manoli Pasquale non ama parlare, chissà perché, così come faremo per la Tercop, faremo anche per la Terram Ambiente. Oggi il posto di lavoro è sacro e il sindaco Brucchi farà tutto il possibile perché nessuno perde il posto di lavoro.